Ciao a tutti, sono Domenico Petrolino, quarta parte di questo episodio di Non puoi non saperlo dedicato ad Antonio Gramsci. Ci eravamo lasciati raccontando che il 5 novembre il governo scioglie i partiti politici di opposizione e sopprime la libertà di stampa. L'8 novembre, in violazione dell'immunità parlamentare, Gramsci viene arrestato nella sua casa, è rinchiuso prima nel carcere di Regina Celi, poi a Ustica e dal 7 febbraio 1927 nel carcere milanese di San Vittore. Bene, procediamo. Il processo ha 22 imputati comunisti tra i quali Gramsci inizia a Roma il 28 maggio del 1928 davanti al tribunale speciale fascista. Gramsci è accusato di attività cospirativa, istigazione alla guerra civile, apologia di reato e incitamento all'odio di classe. Il pubblico ministero Isgro conclude la sua requisitoria con questa frase, a per tre virgolette, per vent'anni dobbiamo impedire a questo cervello di funzionare, chiuse le virgolette. E infatti Gramsci il 4 giugno del 1928 viene condannato a vent'anni, quattro mesi e cinque giorni di reclusione. L'8 febbraio del 1929 nel carcere di Turi il detenuto 7047 ottiene l'occorrente per scrivere e inizia la stesura dei suoi quaderni del carcere. I 33 quaderni del carcere, non destinati da Gramsci alla pubblicazione, vengono numerati, senza tener conto della loro cronologia, dalla cognata Tatiana Schucht, che li affida all'ambasciata sovietica a Roma, da dove vengono inviati a Mosca e successivamente consegnati a Palmiro Togliatti. In merito ai quaderni, lo stesso Togliatti confermerà la pesante censura a cui era sottoposta ogni riga scritta da Gramsci in carcere. Con parole sue, aperte virgolette, nei quaderni del carcere non vi è un programma d'azione. E chi glielo avrebbe lasciato scrivere in quei fogli che passavano per dieci censure, chiuse le virgolette. Nonostante questo, e anzi forse proprio grazie a questo, Togliatti crede che con i suoi quaderni Gramsci si affermi come l'intellettuale del rinnovamento italiano. Dirà infatti, aperte virgolette, vi è qualcosa di più nei quaderni, una interpretazione storica che dà inizio a una nuova scienza della nostra storia e della nostra politica. Perciò l'antifascismo di Gramsci, comunista e internazionalista, è una dottrina di sostanza del rinnovamento della nazione italiana. Chiuse le virgolette. Dopo la fine della guerra, i quaderni, curati dal dirigente comunista Felice Platone, vengono pubblicati dall'editore Einaudi, unitamente alle sue lettere dal carcere indirezzate ai familiari, in sei volumi, ordinati per argomenti omogenei con i seguenti titoli. Il materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce nel 1948. Gli intellettuali e l'organizzazione della cultura nel 1949. Il risorgimento nel 1949. Note sul Machiavelli, sulla politica e sullo stato moderno, sempre nel 1949. Letteratura e vita nazionale nel 1950. Passato e presente nel 1951. Intanto, il VI Congresso dell'internazionale comunista, tenutosi a Mosca dal luglio al settembre del 1928, aveva stabilito l'impossibilità di accordi con la socialdemocrazia, che veniva anzi assimilata allo stesso fascismo. Il Partito Comunista d'Italia si adegua alle scelte dell'internazionale, ed espelle con l'accusa di trotschismo esponenti di spicco come Bordiga, Leonetti e Tresso. In questo periodo Gramsci conosce Sandro Pertini, membro del Partito Socialista italiano e anche egli detenuto alla casa penale di Turi. Nonostante i pensieri politici differenti, i due diventano grandi amici, e Pertini lo ricorderà spesso nei suoi discorsi. Dal 1931, oltre al morbo di Pot, di cui soffriva come sappiamo fin dall'infanzia, Gramsci viene colpito da arteriosclerosi, e gli viene così assegnata una cella individuale. Cerca di reagire alla detenzione studiando ed elaborando le proprie riflessioni politiche, filosofiche e storiche, ma le sue condizioni di salute continueranno a peggiorare. Il 25 ottobre del 1934 viene accolto alla sua richiesta di libertà condizionata, e il 21 aprile del 1937 gli viene concessa la libertà piena. Oramai in gravissime condizioni, muore all'alba del 27 aprile, a 46 anni, a causa di un'emorragia cerebrale. Il suo corpo viene cremato e le sue ceneri, inumate nel cimitero del Verano, vengono trasferite l'anno seguente nel cimitero cattolico di Roma, nel campo Cestio. Ai funerali parteciperanno soltanto il fratello Carlo e la cognata Tatiana. Ecco, spendiamo adesso qualche parola in più su un paio di concetti importanti nel pensiero di Gramsci. Iniziamo con la questione meridionale, che nella storiografia italiana indica la situazione di difficoltà del Mezzogiorno d'Italia rispetto alle altre regioni del paese. Nel 1926, poco prima di essere arrestato, Gramsci inizia a scrivere un saggio dal titolo «Alcuni temi sulla questione meridionale», saggio nel quale, pur rimanendo critico verso i governi sabaudi, attribuisce le cause di questo problema principalmente ai molti secoli di diversa storia dell'Italia meridionale rispetto a quella dell'Italia settentrionale. Con parole sue, aperte le virgolette, la nuova Italia aveva trovato in condizioni assolutamente antitetiche i due tronconi della penisola, meridionale e settentrionale, che si riunivano dopo più di mille anni. Da una parte la tradizione di una certa autonomia aveva creato una borghesia audace e piena di iniziative, ed esisteva una organizzazione economica simile a quella degli altri stati d'Europa, propizie allo svolgersi ulteriore del capitalismo e dell'industria. Nell'altra, le paterne amministrazioni di Spagna e dei Borboni nulla avevano creato. La borghesia non esisteva, l'agricoltura era primitiva e non bastava neppure a soddisfare il mercato locale. Non strade, non porti, non utilizzazione delle poche acque che la regione per la sua speciale conformazione geologica possedeva. L'unificazione pose in intimo contatto le due parti della penisola. Chiuse le virgolette. La società meridionale, secondo Gramsci, è costituita da tre classi fondamentali. La prima è quella dei braccianti e contadini poveri, politicamente inconsapevoli. La seconda è quella dei piccoli e medi contadini, che non lavorano la terra ma dalla quale ricavano un reddito che permette loro di vivere in città, spesso come impiegati statali. Questi rappresentano la piccola borghesia meridionale, che Gramsci definisce una classe media inventata dallo Stato attraverso il ricorso all'impiego pubblico. Questi disprezzano e temono i lavoratori della terra, e fanno da intermediari, fra questi ultimi, e la terza classe, costituita dai grandi proprietari terrieri, i quali a loro volta contribuiscono alla formazione dell'intellettualità nazionale con personalità del calibro di Benedetto Croce e Giustino Fortunato. Gramsci auspica allora la formazione di un ceto di intellettuali medi, che interrompa il dominio che i grandi proprietari terrieri esercitavano sui braccianti attraverso l'azione della classe intermedia, e che favorisca al tempo stesso l'alleanza dei contadini poveri con il proletariato urbano. Bene, questo è tutto per quanto riguarda la questione meridionale, passiamo adesso ad un concetto fondamentale nel pensiero di Gramsci, quello di egemonia culturale. Per Gramsci, se fino a quel momento non era avvenuto quanto teorizzato scientificamente dalle teorie marxiste, era per via dell'incontrastata preponderanza della cultura borghese su quella proletaria. In altri termini, le rappresentazioni culturali della classe dirigente, cioè l'ideologia dominante, avevano influito più di quanto Marx avrebbe potuto pensare sulle masse lavoratrici. Se i proletari volevano assumere il potere, dovevano quindi strappare alla borghesia la sua egemonia culturale. Gramsci osserva che nelle società industriali avanzate, gli strumenti culturali egemonici, come la scuola obbligatoria e i mezzi di comunicazione di massa, avevano inculcato una falsa coscienza ai lavoratori. Invece di mettere in atto una rivoluzione che servisse a soddisfare i loro bisogni collettivi, i lavoratori delle società industriali avevano fatto proprio all'ideologia borghese dominante, cedendo alle sirene del nazionalismo, del consumismo e della competizione sociale, abbracciando un'etica individualista egoistica oppure la religione dei borghesi. Nella visione di Gramsci i tempi erano maturi affinché venisse abbattuta l'egemonia culturale borghese e questo, come abbiamo già visto parlando della questione meridionale, era compito degli intellettuali. Per Gramsci tutti gli uomini sono intellettuali in quanto operano nella realtà secondo una filosofia e un'etica spontanea e contribuiscono a modificare visioni del mondo e modi di pensare, ma alcuni individui assumono storicamente la funzione di intellettuale in quanto ne diventano coscienti. Gli intellettuali si possono così distinguere in tradizionali ed organici. Gli intellettuali tradizionali sono quelli che elaborano la propria attività intellettuale al di fuori degli schemi stabiliti dall'egemonia culturale preponderante, considerandosi autonomi e indipendenti dal gruppo sociale dominante sia politicamente sia economicamente. Gli intellettuali organici sono invece quelli collegati organicamente alla classe dominante e offrono a questa funzioni organizzative e connettive che le permettono la guida ideologica e culturale. Sono al servizio del principe e ne giustificano ed esaltano il potere, a cui essi si sentono associati e di cui godono i vantaggi. Lo Stato come espressione della classe dominante si avvale per l'esercizio del potere di due strumenti, la dittatura e l'egemonia. La dittatura è l'espressione coercitiva del potere politico, quella cioè che si impone sull'individuo togliendogli la libertà d'azione. L'egemonia culturale è invece raggiunta con l'organizzazione del consenso tramite strutture ideologiche e istituzioni come la scuola, i partiti, la chiesa, ecc. In quest'ultimo caso il potere non si esprime con la forza ma attraverso la persuasione razionale e l'influenza sentimentale, modificando il pensiero e il modo di vivere dei subordinati. La classe al potere che voglia stabilmente consolidarsi e rafforzarsi farà in modo che la coercizione e l'egemonia culturale si interconnettano sempre di più. Negli Stati liberali si cercherà di raggiungere un equilibrio tra la forza del potere politico e il consenso culturale della maggioranza, che sta a fondamento del primo. Il consenso della maggioranza diviene quindi essenziale per il mantenimento del potere politico e per questo viene creato un numero sempre maggiore di strumenti in grado di formare l'opinione pubblica. Gli intellettuali organici, per Gramsci, sono il maggior sostegno dello Stato moderno e quindi chi lavora per l'abbattimento di questo Stato dovrà superare il concetto tradizionale di una rivoluzione vista come uno scontro violento tra classi in lotta e sostituirvi la conquista dell'egemonia culturale. Per rompere questa connessione tra egemonia culturale e potere, la strada è sempre quella della rivoluzione come scontro violento di classe per la conquista del potere. Ma questa che lui chiama guerra di movimento, la rivoluzione cioè, deve essere preceduta da una guerra di posizione, dalla conquista cioè dell'egemonia culturale, attirando verso il proletariato la classe degli intellettuali tradizionali e formando tra le proprie fila gli intellettuali organici, facendo di questi i propri dirigenti politici. Con parole sue, aperte virgolette, il proletariato può diventare classe dirigente e dominante nella misura in cui riesce a creare un sistema di alleanze di classe che gli permetta di mobilitare contro il capitalismo e lo stato borghese la maggioranza della popolazione lavoratrice. Conseguita la vittoria sarà compito dei dirigenti politici mantenere inalterata l'egemonia culturale del proletariato. Con parole sue, aperte virgolette, la supremazia di un gruppo sociale si manifesta in due modi, come dominio e come direzione intellettuale e morale. Un gruppo sociale è dominante dei gruppi avversari che tende a liquidare o a sottomettere anche con la forza armata ed è dirigente dei gruppi affini e alleati. Un gruppo sociale può e anzi deve essere dirigente già prima di conquistare il potere governativo e questa è una delle condizioni principali per la stessa conquista del potere. Dopo, quando esercita il potere ed anche se lo tiene fortemente in pugno, diventa dominante ma deve continuare ad essere anche dirigente. Chiuse le virgolette. Bene, direi che questo è tutto per quanto riguarda Antonio Gramsci. Spero che abbiate trovato questo personaggio interessante e che vi abbia dato nel bene o nel male qualche spunto di riflessione. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi episodi di Non puoi non saperlo e come sempre grazie per l'attenzione, ciao a tutti e alla prossima!